Buongiorno a tutti, sono contento di assistere a questa manifestazione del Festival del Volontariato, un festival importante per la città di Lucca. Il tema che state discutendo dell'oligarchia finanziaria, lo spazio cittadinanza, cioè cercare di andare oltre i stereopiti della finanza in Europa, è un tema che io spesso affronto. La nuova crisi della Grecia, non quella di qualche anno fa, ma quella di questi giorni, di queste settimane, è un esempio perfetto di come ci può creare un divario fra cittadini e istituzioni europee. Nel caso della Grecia, cittadini che hanno votato per un governo di sinistra estrema che predica la rivoluzione contro la troica della Banca Centrale Europea, contro la Commissione Europea, contro il Fondo Monetario Internazionale, ghi nega l'esistenza della troica, cancella la parola, e poi ovviamente, come vediamo, finisce costretto a fare un accordo con la stessa troica. Ma la rabbia di Sipres e di Sirisa in Grecia, o la rabbia di chi è contro l'Europa o chi è contro l'ero in Italia e in altri paesi, spesso viene sviluppato e nutrito da politici irresponsabili, demagogici e populisti. Parlo di Sipres in questo caso, o anche di Salvini in Italia, per dargli un esempio, in cui c'è un tentativo di soffiare sulla benzina, di strumentalizzare il disagio sociale fortissimo che c'è in tanti paesi e usarlo come un'arma contro l'idea di un'Europa. Io sono europista. Credo che l'Europa e l'ero siano positivi, nonostante tutti i difetti che ci sono con la creazione dell'ero, una valuta che ha una politica monetaria unita, ma manca il coordinamento della politica fiscale, per esempio, che è un difetto gravissimo, difficile da rettificare, ma alla fine il problema è che, da un lato, ci sono politici che instrumentalisano il disagio sociale e poi c'è stata storicamente una bella grande inadabbienza, un'incompetenza in termini di comunicazione da parte di tanti presidenti e commissari della Commissione europea. Incompetenza significa non essere in grado di spiegare le ragioni per cui l'Europa non è un'Europa solo delle banche, l'Europa non è solo un'Europa della finanza. Certo, in alcuni casi la finanza ha sicuramente, insieme con la politica europea, punita la gente che non meritava di essere punita. certamente alcuni degli atti di austerity, voluti dalla Merkel, voluti da tanti in questi anni, ha creato una rabbia, una frustrazione e anche un specchio di ammutilimento, se vogliamo, da parte di chi viveva nei paesi dell'austerity. E non c'è dubbio che a livello macroeconomico sarebbe meglio portare avanti una politica ora più kenziana, più di investimenti pubblici, più di crescita. Il problema sono le regole di Maastricht, che ci riporta al fatto che ci sono alcuni problemi a livello strutturale della comunicazione e anche della sostanza in Europa, se parliamo di finanza. sono più preciso, non ha più senso la regola del 3%, una regola che fu scritta 20 anni fa, più di 20 anni fa, in un altro secolo, in un altro mondo, e in questo momento ci vuole qualche misura che stimola la domanda interna e fa girare il denaro nell'economia, in Italia ma anche altrove. Altro esempio, la storia delle tentativi di imporsi sulla Grecia sono stati sicuramente frutti di disperazione e anche accesso politico da parte di chi faceva parte dei vertici del G20 a Cannes, ma anche di altri nel passato, dove c'è stata assolutamente una miscela fra incompetenza e arroganza da parte di alcuni leader europei. Ma in fondo, se torniamo alla questione, non c'è un complotto massonico da parte delle banche o la finanza. Ci sono le banche che hanno avuto problemi di solvenza e liquidità che è stato negli ultimi anni, dal 2012 a oggi, in gran parte risolto dalla politica di Mario Draghi. La politica di Mario Draghi di dare liquidità al sistema sicuramente è di poi dare dei prestiti a costo quasi zero alle banche, sicuramente ha risolto il problema delle banche. Le banche non mancano liquidità oggi, ce l'hanno. Il problema è che dove, laddove non c'è la domanda interna e non c'è l'esigenza da parte delle piccole e medie imprese di ricorrere a nuovi prestiti, le banche non hanno neanche l'opportunità di estendere i nuovi crediti. E anche, certamente, tante banche in Italia, ma altrove in Europa, hanno una politica assolutamente troppo rigida e troppo mioppica per quanto riguarda nuovi crediti alle imprese. Ma l'alienazione, la rabbia, di parte di tanti cittadini in Europa è frutto anche della mancanza di comunicazione. Secondo me, la Commissione europea farebbe bene a imparare a comunicare con parole povere e spiegare che la coesione sociale fa parte delle base dell'Europa. L'Europa non è gli Stati Uniti d'America. Nel mio paese c'è un atteggiamento, diciamo, più salvatico, un atteggiamento meno di solidarietà e più di ambizione, concorrenza, successo. Chi ha successo cresce e chi è debole potrebbe anche soffrire. Questo è esagerato, quello che sto dicendo. Ma in Europa non bisogna andare all'altro eccesso, cioè non bisogna risentire chi ha successo. Non bisogna che la politica di invidia e di risentimento e di rabbia viene strumentalizzata da leader politici popolisti. E quindi, secondo me, alla fine non c'è un complotto della finanza, ma non c'è neanche una buona comunicazione da parte della finanza o delle istituzioni europee. C'è tanto lavoro da fare per portare avanti la visione e il sogno dell'Europa. La moneta unica sicuramente ha bisogno di tanto lavoro ancora e dubito che si arriverà a un modello perfetto. Ma non possiamo neanche tornare indietro, non possiamo neanche buttare dalla finestra l'euro, perché l'euro è l'unica cosa che garantisce la stabilità e i tassi di interesse bassi per gli italiani e per gli europei. Senza l'euro a questo punto saremo in un'altra scena e non sarebbe molto bella. Ecco il mio pensiero, spero che questo contributo sia interessante. Vi saluto, buon lavoro a tutti. Grazie a tutti.